Benvenuti su Gossip Globe. Prima di iniziare ricorda di mettere un like, seguire il canale ed attivare la campanella per restare sempre aggiornato. Se ne parlava da settimane, ma ora sembra che il caso sia risolto. Il futuro di Gemma Galgani a Uomini e Donne è stato molto discusso. Alcuni ipotizzavano un addio visto che era vicina a un uomo, mentre altri credevano che sarebbe tornata a settembre. Maria De Filippi ha finalmente preso una decisione. Il sito Anticipazioni TV ha rivelato cosa attende Gemma a breve e lungo termine a Uomini e Donne. La regina di Mediaset ha sorpreso tutti con una proposta irresistibile. Maria De Filippi ha in mente un piano ben congegnato per Gemma. Non vuole rinunciare a lei nel dating show di Canale 5. Possiamo già dire che Gemma non andrà via. Non solo Gemma resterà nello studio, ma tra poco farà qualcosa di ancora più significativo. La stagione 2024-2025 sarà l'ultima con Gemma come dama. Maria vorrebbe affidarle il ruolo di opinionista, facendola lavorare a stretto contatto con Tina Cipollari e Gianni Sperti. Un colpo di scena dopo tante voci negative. Secondo Anticipazioni TV, Gemma accetterà questa allettante offerta. Nell'ultimo periodo si parlava anche di un contatto con signorini per il grande fratello. Gemma ha sempre dimostrato grande carisma e determinazione. Questo nuovo ruolo potrebbe essere un'opportunità perfetta per lei. Non ci resta che attendere e vedere come evolverà la situazione. Gemma continuerà a essere protagonista a uomini e donne, ma in un ruolo tutto nuovo.